Cricket's Body Tutti conosciamo Gappi, il gatto di Isaac in cui ci si può anche trasformare durante la run. Cricket invece è il suo cane. A differenza del gatto, per sua, diciamo, fortuna, è stato fatto in meno pezzi. Infatti esiste la testa, che è un mero d'emage up, ma esiste anche il corpo. Il suo effetto è devastante se riuscite ad avere qualche effetto speciale sulle lacrime. Perché nel momento in cui la lacrima impatta contro una roccia, contro un muro o contro un nemico, vengono create altre quattro lacrime che vanno in direzioni a croce, diciamo, sparse per la stanza. Questo oggetto però abbassa il range delle lacrime e abbassa il Tear Delay. Questo vuol dire però che possiamo sparare più lacrime. Perché vi ricordo che ci sono due parametri per la quantità di lacrime che si possono sparare da Isaac. Uno è Tears, ovvero quante lacrime puoi sparare, ma l'altro è Tears Delay, ovvero quanto tempo passa tra una lacrima e l'altra. Essendo che posso raggiungere un massimo di valore di Tears, abbassare il Tears Delay significa che effettivamente vado a sparare più lacrime oltre il limite consentito normalmente. E questo è il motivo per cui Cricket's Body effettivamente è un ottimo oggetto. Grande volume di fuoco e buona quantità di lacrime sparate. Povero canevero.